Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Come il Jobs Act. E lei non dice una parola chiave. Chiara. Io penso che questo sia il vero limite della sua segreteria. Se mi posso permettere. Non è che è troppo di sinistra. È che non è chiara su alcune questioni fondamentali.